All current art is fake. Un cinema di valore con un posto che si commenta da solo. Questa è la seconda occasione, siamo venuti lo scorso anno, anche a Villa d'Este da un stadio, la condizione è bellissima, noi poi siamo attivi al centro a storia, siamo felicissimi di queste cose, di questa organizzazione, due come viene portata avanti dal direttore delle ville, complimenti. Entrare in Villa Adriana o a Villa d'Este e vedere tutto questo e poi avere la possibilità di vedere anche un film per me è una cosa eccezionale. La capacità che ha 2001 di Seno e lo Spazio è proprio quello che ogni volta che si rivede il film lo si guarda con uno sguardo sempre diverso. Una delle cose meravigliose di questo film è che c'è molto non detto, nel senso era proprio intenzione di Kubrick lasciare un po' il mistero sull'interpretazione di questo film. Io ho cercato solo di rappresentare un'esperienza visiva che aggiri la comprensione per penetrare con il suo contenuto emotivo direttamente nell'inconscio. Le chiedo un aggettivo per descrivere Villa Film Festival, inclusivo, magica, sorprendente. Appena l'hai fatta, una cosa è finita. L'arte è un sistema per cambiare.